pillole di business podcast ogni giorno una pillola riguardante business e crescita personale a cura di massimo martinini ciao io sono massimo martinini e ti do il benvenuto nel podcast di pillole di business oggi parliamo di business di un argomento estremamente estremamente importante questo probabilmente sarà il concetto che potrebbe stravolgere con un impatto maggiore il tuo business ed è la scala del valore teorizzata da russell branson ti leggo un piccolo estratto del suo libro dot con secret che assolutamente ti consiglio che spiega in maniera davvero spettacolare questo concetto russell sei un fumatore cosa non ho mai fumato in vita mia perché me lo chiedi beh mi sono accorto che i tuoi denti si stanno leggermente ingiallendo e non ero sicuro che tu fossi un fumatore forse bevi caffè no non bevo neanche il caffè dissi i miei denti sembrano così gialli queste furono le prime parole che il mio nuovo dentista mi disse dopo circa dieci minuti dal nostro primo appuntamento sì lo sono ma non preoccuparti se vuoi posso darti un prodotto sbiancante tutto quello che devi fare è usarlo per un paio di settimane ma se segui la procedura torneranno ad essere di nuovo bianchi puoi immaginare la mia risposta certo non voglio denti gialli il dentista continuò a lavorare su miei denti e poco dopo affermò da piccolo hai portato l'apparecchio sì l'ho fatto perché me lo chiedi i tuoi due denti posteriori si stanno spostando di nuovo e questo succede a chi ha portato l'apparecchio i miei denti si stanno spostando e cosa possiamo fare se vuoi posso costruirti un bite che ti aiuterà a mantenere i denti nella posizione corretta sì grazie quando andai dal dentista quella mattina ero entrato per una pulizia dei denti gratuita in meno di un'ora uscì avendo speso più di 2000 dollari il dentista mi aveva strategicamente accompagnato in questo potentissimo processo che ho chiamato scala del valore prima mi ha lanciato un esca la pulizia dei denti gratuita con lo scopo di attirare i suoi clienti in questo caso io secondo avendomi dato del valore la pulizia dei denti gratuita e informandomi sullo stato dei miei denti mi ha portato a volerne di più vendendomi il prodotto sbiancante poi ha trovato un altro modo per estrarre del valore da me proponendomi il bite per bloccare lo spostamento dei denti che naturalmente ho accettato fine lettura come ti dicevo questo è una traduzione perché il libro in lingua originale in inglese del libro dot con secret di russell branson se mi hai seguito attentamente ti rendi conto che questo dentista ha creato un sistema per aumentare il guadagno da ogni singolo cliente in una maniera spettacolare offre una pulizia sbiancante dei denti in maniera gratuita per cui le persone andranno nel suo studio si faranno fare il trattamento e una volta all'interno il dentista o chi per lui cercherà di vendergli qualcosa inoltre prima di uscire dallo studio dentistico la segretaria gli ha fissato un altro appuntamento a sei mesi di distanza per una nuova pulizia e questo è un concetto importantissimo per tutte quelle attività che hanno la possibilità di avere dei clienti ricorrenti in questo caso il dentista o meglio la sua segretaria ha lavorato alla grande più volte ti ho parlato dell'importanza di andare a prendersi clienti di non aspettare i clienti che si presentino da soli nella tua attività perché purtroppo nel mondo odierno con tutti i concorrenti che abbiamo non succederà non sta succedendo e non succederà in futuro devi dare un motivo ai clienti per scegliere te li devi letteralmente andare a prendere russell branson suggerisce di utilizzare un'esca e nell'esempio del dentista questa esca era appunto la pulizia dei denti gratuita prova ad immaginare nel tuo business come potresti strutturare una sequenza di vendita simile perché davvero potrebbe far cambiare in maniera importante il futuro della tua attività purtroppo sono quasi convinto che tu invece non abbia non solo la scala del valore quindi una sequenza di prodotti da vendere ma che tu non abbia nemmeno un'esca non abbia un qualcosa che attiri i clienti da te dimmi la verità non ce l'hai poco importa adesso che conosci questo concetto puoi metterlo in pratica quindi puoi creare la tua esca il tuo sistema di acquisizione clienti devi creare qualcosa che porti il potenziale cliente le persone a scegliere te invece dei tuoi concorrenti dagli un motivo per provarti fagli vedere effettivamente quanto vali portali nel tuo negozio trova un modo poi una volta che l'esca è scattata quindi si è riuscito a portare un cliente da te anche se ancora non stai guadagnando nulla e anzi è probabile che tramite l'esca tu ci stia addirittura rimettendo però devi avere una strategia deve avere qualcosa da offrire al cliente per poi farti pagare esattamente come nell'esempio del dentista è vero che non tutti i business si adattano perfettamente a questa strategia però riflettendoci bene e analizzando un po quello che proponi sarai sicuramente in grado di inventarti qualcosa con questo è tutto se vuoi approfondire l'argomento ti invito a leggere il libro di russell branson dot com secret che è in lingua inglese se però non mastichi bene l'inglese puoi trovare il libro di michele tampieri che praticamente ne è la versione italiana non è proprio la traduzione ma si avvicina molto i concetti espressi sono esattamente gli stessi lo puoi trovare su amazon ma comunque ti lascio i link nella descrizione del podcast con questo è tutto ti invito come al solito ad iscriverti alle mie pillole di business via mail per ricevere ogni giorno la mia mail mattutina giornaliera che ti dà tanti spunti di riflessione sul sito pillole di business.com io sono massimo martinini ti ringrazio per avermi dedicato il tuo tempo e ci sentiamo domani ciao